Ragazzi bentornati finalmente in questo nuovissimo video del canale Oggi finalmente torniamo con un golosissimo video riguardante cosa succede nei giochi Pokémon I Pokémon What If praticamente Questa è la rubrica in cui andiamo a esplorare alcuni eventi particolari, misteriosi dei giochi Pokémon L'avrete sicuramente visto dalla copertina e dal titolo E oggi parliamo di tweaking, il glitch del vuoto Portai già un video del genere l'anno scorso Un video molto apprezzato da parte vostra su Diamante e Perla Anche perché questo glitch del vuoto ha le applicazioni più importanti, le applicazioni maggiori in quei giochi In cui è possibile appunto entrare nel vuoto e catturare anche Pokémon rarissimi e quasi mai rilasciati Come Darkrai, Shaman o addirittura il dio dei Pokémon, Arceas In Diamante e Perla quindi abbiamo visto delle cose veramente interessanti lo scorso anno in quel fantastico video In Platinum, ma soprattutto in ArtGold e SoulSilver Questo glitch del vuoto, del tweaking è presente Però ci sono insomma implicazioni minori Bug grafici e cose del genere Però qualche chicca possiamo anche notarla In ArtGold e SoulSilver, i protagonisti appunto di questo video Vi farò vedere quindi cosa sono riuscito a realizzare in queste settimane di allenamento per realizzare questo glitch Quindi andremo a vedere cosa succede in Pokémon ArtGold e SoulSilver con il glitch del vuoto Mi raccomando ragazzi, massimo supporto in questo video con un like Un commento per farmi sapere la vostra opinione su questi particolari eventi E un passaggio dal canale di volare per non perdervi neanche in una stream del canale Ragazzi, quindi buttiamoci in questo vuoto e vediamo un po' che succede Cominciamo! Prima di esaminare gli eventi che ho sbloccato praticamente in ArtGold e SoulSilver Ripassiamo un attimo la definizione di glitch del vuoto, di tweaking Il glitch del vuoto è un particolare glitch di quarta generazione che si origina semplicemente perché il gioco, per farvela breve Carica delle sezioni di mappa in maniera sbagliata Soprattutto questa cosa avviene con la bicicletta perché ci muoviamo velocemente Quindi il gioco non ha tempo di caricare in maniera corretta queste sezioni di mappa E ovviamente viene fuori una mappa glitchata Una mappa appunto con il glitch del vuoto Quindi queste sezioni buggate in game Anche in ArtGold e SoulSilver ci sono una sezione di mappa che se attraversate in un certo modo con la bicicletta Beh, causano appunto l'arrivo del glitch del vuoto Non ci sono purtroppo leggendari qui da catturare come Arcas, Drekrai, Sheming, come Diamante e Perla Ma alcuni punti della mappa ci consentono appunto di attivare questo glitch del vuoto Uno dei più interessanti per quanto mi riguarda è quello presente al parco nazionale a nord di Fjordoropoli Qui praticamente sotto la fontana al centro del parco è possibile appunto passare tra le varie sezioni della mappa Con la bicicletta velocemente e far apparire nella zona ovest appunto il vuoto Come possiamo vedere appunto dal mio gameplay Ci sono finalmente riuscito È un glitch del vuoto totalmente semplice Non ci porta in nessun'area con leggendari Non ci fa vedere niente di che Però c'è una piccola chicca ragazzi che girovagando un pochino in questo vuoto che sembra infinito Beh, ci appare Praticamente andando poi verso sud Attenzione, attenzione Incontriamo a caso, inaspettatamente, degli NPC Praticamente ragazzi questi sono tutti gli NPC che partecipano alla gara Pigliamosque Una cosa veramente incredibile Sono tutti in fila C'è anche il guardiano praticamente del parco nazionale Sono tutti lì e ci parlano della gara Pigliamosque Tutti in fila Come se stessero aspettando che si attivi la gara Pigliamosque in game Veramente un'ottima cosa Poi, come vi dico, non c'è nient'altro di particolare Però questa cosa, sinceramente È una vera chicca Cioè, mai mi sarei immaginato di trovare questi personaggi nel vuoto Uno dei punti, oltre al parco nazionale, che sono riuscito a sbloccare abbastanza velocemente Questo più di tutti È il punto che si trova a Olivinopoli Vicino alla palestra Infatti facendo un particolare movimento di bicicletta In questo gioco, ragazzi, è veramente difficile manoprare con successo la bicicletta Possiamo far apparire a sud Quindi praticamente dove c'è il porto Un'altra zona di vuoto In questa zona sarebbe possibile, insomma, sbloccare un'altra zona Particolare in cui si ottengono numerosi e ulteriori bug grafici Però non sono ancora riuscito al momento a sbloccare, per conto mio, questa zona Comunque sì, non è una zona che ci offre particolari spunti Ci sono alcuni salti Ci sono alcuni personaggi bloccati lì in mezzo al vuoto Ci sono anche alcuni ciuffi d'erba Che non ci fanno incontrare assolutamente nessun Pokémon selvatico Almeno, io non ho incontrato nessuno E ci ho girato particolarmente tanto in quell'erba Quindi una zona, sì, interessante Che ci può dare accesso a altre zone Però è particolarmente complicato tutto ciò Quindi ci vorrà ulteriore lavoro Un altro punto di mappa veramente interessante È presente anche dopo Borgo Foglia Nova Qui è presente, appunto, una particolare zona In cui attivare il glitch del vuoto a Borgo Foglia Nova E addirittura, ragazzi, tramite questo glitch del vuoto Potremmo addirittura saltare, a quanto pari, le cascate Tojo Quindi si attivano glitch grafici particolari con il glitch del vuoto E potremmo, appunto, saltare le cascate Tojo Oppure attivare, appunto, il classico glitch del vuoto con una schermata nera È abbastanza difficile questa cosa Perché ci vuole una grande padronanza della bicicletta In un punto veramente particolare E, ragazzi, è fuori di testa Cioè, alcuni punti sono veramente difficili da accedere E ancora ci vuole lavoro Sì, assolutamente Abbiamo visto, quindi, alcune delle applicazioni migliori Per quanto riguarda i glitch del vuoto In Pokémon Art God e SoulSilver Sicuramente giochi meno interessanti Per questo glitch Rispetto a Pokémon Diamante e Perla Però alcune zone di mappa ci sono E ce ne sono anche altre, comunque sia E spettacolà che vi ho detto in questo video Seppur vi ho detto, praticamente, le più importanti Per quanto mi riguarda Fatemi sapere, ragazzi, la vostra qui sotto Perché io, veramente, adoro questo glitch Quindi ci tenevo a portarvi questo video Per completare un po' quello dell'anno scorso Quindi mi raccomando Un like di supporto Un commento qui sotto Un passaggio al canale di ora Per non perdermi neanche Una stream del canale Quindi, per oggi possiamo dire Che dal buon Rocket è tutto Recute vi auguro un pomeriggio Una buona giornata E, ovviamente, come sempre Bye, bye